Devo dire che la difficoltà maggiore è stata, oltre nel gestire, nel pianificare tutti gli aspetti di competenze, è stato quello dell'interlocuzione nel rassicurare la popolazione e fornire le giuste informazioni, perché c'è stata, come dimostrano anche gli indici di ascolto, una gran voglia di conoscenza e di informazione da parte dei cittadini e quindi bisognava essere particolarmente rigorosi nel fornire le giuste notizie, senza ovviamente enfatizzare, ma dare la giusta connotazione di una situazione che era drammatica, tragica, ma che aveva bisogno anche da parte, soprattutto della popolazione, come infatti si è verificato, di una grande attenzione e di un grandissimo sacrificio.